Salve a tutti, io sono Marco, bentrovati nel mio canale. Oggi con molto piacere attraverso questo tutorial vi mostrerò come ho sostituito la piletta di scarico del bidet. Innanzitutto ho iniziato con lo smontare la vecchia piletta che come si può notare ormai era da sostituire. Rimuovo quindi la crociera per prima cosa. Dopodiché con l'ausilio di una pinza a pappagallo rimuovo il canotto di scarico allentando l'apposita ghiera. Come potete vedere è tutto molto ossidato. Poi smonto il sifone. Ed infine la piletta. Come potete notare dalle frecce azzurre bisogna inserire un giravite al taglio grande che ci permette di fermare la parte superiore della piletta e con la pinza a pappagallo a questo punto possiamo disaccoppiare la parte inferiore dalla parte superiore effettuando una rotazione in senso anti-orario. Ecco questi sono tutti i componenti che insieme compongono lo scarico del bidet. Iniziamo con inserire la parte superiore della piletta apponendo al suo interno la guarnizione bianca di tenuta. Attraverso questi fori come nella fase di smontaggio dobbiamo inserire un giravite al taglio grande per evitare la rotazione quando poi andiamo ad avvitare la parte inferiore. In questo modo qui. Ecco prima di avvitare la piletta inferiore dobbiamo avere cura di inserire questa guarnizione nera. Mi raccomando a un suo verso deve essere infatti messa con la parte conica tra virgolette verso l'alto. Una volta avvitata dobbiamo fare in modo che la piletta abbia l'uscita della crociera che vada ad azionare il meccanismo del salterello rivolta verso lo scarico. A questo punto è possibile installare il tubo verticale che ci permette di stabilire la posizione corretta per poi successivamente collegare allo scarico a un muro il canotto terminale. Fatto questo si può collegare poi il sifone e il canotto di scarico. Fatto questo si può collegare allo scarico. ATG. Ora passiamo la pastaie perché sono scorto della politica www.atg-programma山 per eye. Per Forest Le VARUTRI, coloro una minura che si può volta cambiare il bacco e avvita la sua volta dire copa di ICM Whatever. 48 Anemo, passiamo a sotto di Italia, break it up e arriremo. Fatto il minuto video computer, trovare il canto delle chiudere. Fattole s' il cornisone,andsso value, una måcate di sostультare il composto viaン, buono, trovare la mini stagione, edita, montare gli occhi cause dei pi cumplemi di Heavens. Grazie a tutti. Allora al momento vi faccio vedere come installare la guarnizione conica e come collegare al sifone il canotto, ma tra poco dovrò rimuoverlo per tagliarlo in quanto devo fare la misura precisa per farlo entrare nello scarico a muro. A questo punto posso installare e collegare anche la nuova crociera che permette di far defluire l'acqua allo scarico mediante l'azionamento della levetta verticale posta nel retro del rubinetto che fa azionare il salterello della filetta. Questo meccanismo non è altro che l'unione di queste due bacchette in acciaio unite da una staffetta in plastica bloccata mediante una vite. Queste frecce vi stanno ad indicare come devono essere posizionate le due aste al momento del serraggio della vite. Ora sto tracciando la misura del canotto che mi occorre per collegare lo scarico del bidet allo scarico a muro. In questo caso io devo collegarmi allo scarico in piombo, ma anche se voi avete lo scarico in pvc vi consiglio di utilizzare la vasellina per tubi che consente un ingresso facilitato alle tubazioni. Fatto questo posso reinserire il bidet e collegare lo scarico. Posso collegare i flessibili dell'acqua ai rispettivi rubinetti in modo tale da poter collaudare il nuovo sistema di scarico e verificare l'assenza di perdite. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! A questo punto, dato che tutto è andato a buon fine, è possibile fissare di nuovo il bidet attraverso i suoi appositi dadi. Dopo ciò effettuerò prima una pulizia della superficie dove poi andrò a coprire con la carta gommata, in modo tale da applicare il silicone bianco antimuffa di protezione e rifinitura. Coprendo con la carta gommata non si sforza nulla e viene fuori un lavoro pulito e professionale. E' anche vero che questa operazione richiede molta pazienza e molto tempo, però il risultato è garantito in maniera perfetta. L'acqua calda con il sapone per i piatti garantisce un'ottima stesura del silicone, evitando bolle d'aria e in più ci consente di mantenere le mani pulite per tutta la durata del lavoro. Bene, anche oggi siamo giunti al termine di questo tutorial, spero di essere stato chiaro ed esaustivo con l'argomento. Se il video vi è piaciuto ed è stato di vostro gradimento lasciate un mi piace, iscrivetevi al mio canale e se vi fa piacere attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita. Vi saluto tutti, ciao!